L'obiettivo di questa giornata è quello di avere un momento di confronto con i bambini, i nostri pazienti e i loro genitori al di fuori di un contesto ambulatoriale medico più rilassato e più disteso. Questo confronto è utile per capire ancora meglio il loro vissuto della loro malattia. Dermatite atopica e ittiosi vanno oltre la malattia cutanea perché il prurito, l'insonnia, la sofferenza poi si ripercuote sulla vita quotidiana. Quindi noi ascoltando loro riusciamo a capire altri problemi e speriamo di poterli aiutare di più. Grazie a tutti.